Ciao Dreamer, bentornati o benvenuti sul canale era da tanto che non facevo un video haul oggi diciamo ho a disposizione poco tempo le cose da farvi vedere non sono molte ma quello che è più interessante è quello che ho preso da Primark ai gigi a Campo Bisenzio, provincia di Firenze se avete seguito i miei vlog se ne avete seguiti andate a vedere perché ci sono degli spezzoni molto divertenti c'è anche un pezzo dove appunto vado a vedere questo centro commerciale che mi piace tantissimo, è immenso quindi vi farò vedere un po' un misto tra cui anche le cosine di Primark allora, in questo sacchetto che è di Asos io ho messo, perché non sapevo dove metterla ho messo questa che è una gonna che ho preso su Aliexpress e questa camiccettina qui che non mi fa impazzire non mi fa l'unità è molto spollata che ho preso su Asos adesso se la metto dritta praticamente questa qui è molto carina però è molto spollata ha questo tessuto molto leggero anche qui si trova una foto che la metto su come sta indosso la modella perché non so se riuscirò a fare in tempo a metterla su di me tra parentesi questa è anche questa di Asos è fatta in questo modo molto molto carina ed è in saldo sui 12 euro e qui la spollatura praticamente dietro rimane scoperta con la zip decidete voi come uno può decidere a che altezza può mettere la scollatura ho rifatto la frangia un po' di volora fino a mezzo è tornato un po' di fresco e posso tenere la frangetta e no è molto bella imbossa però non mi convince molto il tessuto è molto delicato c'è questo qui va solamente che scoperta però non è male per il prezzo e poi ho preso questa chicca su Aliexpress guardo sempre di là perchè mi viene da guardare di lì che ho l'ingualnatura di lì comunque è questa qui è una gonna taglia unica quindi guardate che bello fa molto anteprima ragazzi non so se metterò questa anteprima sono queste gonne che vanno tantissimo di moda fatte così taglia unica quindi veste tutte le taglie che sono tipo a ruota così e io ho preso questa come un disegno della pantera rosa sia davanti che indietro cioè non sarà cioè c'erano tante stampe sicuramente ne prenderò ancora perchè sono molto comune poi fanno molto autunno con una giacchetta sopra una camicia anche di questo tipo e niente molto 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 carina l'effetto lucido così questa volta ho preso la pantera rosa però c'era anche Merlin Monroe c'erano diverse stampe ora non ricordo di preciso Topolino penso ma ce n'erano tantissime e a me mi ha ispirato i colori della pantera rosa io la guardavo quando ero piccola e poi appunto sono stata a questo centro commerciale e sono andata da Sephora e ragazzi ho preso poco e niente da Sephora vi dico la verità perchè non avevo molto tempo appunto eravamo lì solo di passaggio perchè appunto stavamo tornando a casa e ci siamo fermati lì perchè io ero curiosa di vedere questo centro commerciale ho preso semplicemente questa cipria qua di Sephora che è la numero 20 ancora sigillata mi ispirava perchè qua c'è scritto che è mattificante per 8 ore quindi la proverò e vi farò sapere poi ci sono alcuni acquisti misti che ho fatto da OVS questa volta OVS lì vicino a Chianciano Terme e ho preso queste ciglia magnetiche che ho già provato a mettere ma non è che sono proprio non danno proprio questo effetto adesso ho solo il mascara non danno proprio questo effetto non sono comodissime comunque magari dalla fretta non le ho messe bene adesso riproverò a metterle con calma e sono queste qua e poi ho preso questo rossettino qui della linea Dismay è lo 04 Crazy ed è questo colorino qua che è molto autunnale fa molto autunno e non è questo che ho indosso questo è una tinta di astra non mi ricordo il numero comunque la tinta di astra che comunque sono favolose e niente questo qui mi piace moltissimo ha un effetto confortevole sulle labbra e dura parecchio poi ho preso da Tigotà che c'è la nuova linea di hanno messo Bourjois e mi ha ispirato questo correttore che è Always Fabulous tenuto estrema 24 ore non si vede una cippa molto coprente devo andare a rifare il semi permanente però guardate che carino e mi piace molto perché questa confezione di vetro in effetti è molto coprente e secondo me ha un'ottima tenuta io ho preso il numero 100 Ivory e per i trucchi credo di aver finito no 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 mi sto sbagliando ok ci sono altre cittine fuori vado abbastanza veloce sono stata recentemente da OVS e ho preso questi orecchini qui a cerchio che mi servivano ero un po' che non li prendevo e con i capelli boccolosi li metto sempre ci stanno bene anzi quasi quasi li metto dopo prima di uscire che sono questi qui poi ho preso l'enliner di Fenty Beauty che è ottimo che ho già utilizzato mi è rimasta solo la scatola da farvi vedere ce l'ho di là non voglio andare a prendere comunque quello con il pack dorato è l'unico che c'è lunga tenuta che è anche quello che ho adesso spettacolare poi ho preso questa palettina qui che non era prevista però l'ho vista lì alle casse che è questa qua di Makeup Revolution la linea Animal io ho preso il leone ovviamente e ha dei colori spettacolari ormai io sto facendo la collezione di questi di Makeup Revolution il pack primario questo qui è un po' effetto opaco molto particolare ed è in plastica dura penso lo specchio enorme è sempre molto comodo i colori sono questi io mi trovo benissimo con Makeup Revolution anzi vorrei fare un video full face un video dove provo comunque qualche palette ma non riesco mai a trovare insomma il momento giusto il tempo perché vanno montati in un certo modo sono video un pochino più elaborati e niente mi piace tantissimo sia la trama che hanno fatto sugli ombretti sia la scrivenza abbiamo dei metal degli opachi dei satinati come al solito ve ne faccio vedere qualche d'uno allora vi faccio vedere questo il verde e anche uno chiaro comunque per il prezzo che hanno questo il verde e questo qua chiaro li ho appena sfiorati guardate che scrivenza ottima ovviamente la durata ragazzi non è proprio come una palette di jeffree star ogni tanto vanno ritoccati soprattutto per me che non uso primer primark ho in testa primark che non uso primer anche se ce l'ho ma non ho l'abitudine di utilizzarlo io piuttosto preferisco ritoccarlo durante il giorno al massimo mettere un po' di correttore però durano abbastanza per essere comunque una palettina che è costata 11,90 secondo me ne vale la pena ho notato anche che ha un profumo questa qui non ha profumo però è gradevole comunque alcune invece non avevano un odore proprio fantastico non che fosse un cattivo odore però non avevano un odore questo è gradevole diciamo quindi Makeup Revolution se migliori anche questo lato degli odori non sarebbe male taggate Makeup Revolution e fateglielo sapere stiamo migliorando comunque e la palettina è questa qui tra l'altro è in tinta anche con la camicia poi la parte più bella arriva adesso dove vi faccio vedere le acquistine di Primark finalmente perché la mia Primark non c'è possibile cioè voglio dire io sto vicino a Bologna Bologna è una città dove c'è tutto cioè ci trovi qualsiasi cosa vita, morte, miracoli qualsiasi cosa c'è in Emilia e non c'è Primark ragazzi Primark nemmeno a Roma lo trovi a Milano a Firenze sono poche le città bisogna fare delle filiali Primark lanciamo un appello digliolo anche tu qua c'è il cane c'è il mio cane e comunque mi trovavo lì non potevo prendere tutto ho preso le cose che mi ispiravano di più prima cosa che li voglio assolutamente mettere in questi giorni sono questi stivaletti troppo troppo carini ho preso il 39 a 19 euro ragazzi sono dei semplici stivaletti però molto eleganti hanno qua dietro questo particolare dorato le due fibbiette a me piacciono un sacco gli stivaletti in autunno e in inverno ne ho tantissimi ci vado comodissima questi li ho provati e sono veramente comodi cioè a discapito del tacco sono molto molto comodi così scamosciati ovviamente in finta pelle veramente molto molto carini neri c'erano diversi colori però ho voluto prenderli neri classici che si abbiano su tutto e non vedo l'ora di metterli sono molto confortevoli devo dire la verità molto molto comodi c'è anche scritto qua comfort e niente sono rimasta molto soddisfatta di questo acquisto poi ho preso questa spazzola che non potevo lasciarla lì della mia principessa disney preferita 4 euro Ariel che ve lo dico a fa il canale si chiama anche così io sto in fissa per Ariel cartone disney canto le canzoni i capelli prima o poi me li voglio fare così rossi e questa è fatta molto bene cioè tipo è un Ariel stilizzata e con le perline qui che sono veramente attaccate molto bene vedete sono proprio fatte molto bene e c'è scritto anche I wash up like this con questa frase insomma bellina io ho preso anche con queste spazzole mi ci trovo da dio per tirano molto bene i capelli e ne avevo preso un'altra anche di Minou che però un pochettino mi si è rovinata dietro e quindi fanno sempre comodo le spazzole per 4 euro sono anche da collezione ah poi ho preso questa dai cinesi che non c'entra niente che è custodia per andare sott'acqua perché nel vlog vedrete anche delle riprese sott'acqua poi nella piscina dell'albergo non è che stavo però insomma mi sono divertita tanto ci sono degli spazzoni molto divertenti e funziona benissimo perché il telefono non me l'ha assolutamente rovinato poi ho preso questa palettina da Primark a 6 euro ragazzi ce ne erano tantissime e non sapevo quale prendere una più bella dell'altra però ce ne erano veramente poche tenute bene integre alcune erano che ve lo dico fa disintegrate e niente ho scelto questa con questi colori così c'è ancora la plastichina tenuta bene e sarebbe carino anche mettere alla prova queste palettine di Primark magari uscirà un video anche dove proverò i prodotti make up di Primark e basta ragazzi finito tutto è rimasto solo il cordino questo qua che non mi serve a niente che è questo qui della custodia del telefono che butterò la borsa è vuoto comunque il mio compagno mi ha promesso che mi riporterà presto lì da Primark che andrò a vedere un pochino le collezioni invernali comunque devo dire che a Firenze è molto più grande molto più ricco siamo già a 15 minuti io devo scappare perché devo uscire spero che questo video vi abbia comunque tenuto compagnia vi abbia incuriosito fatemi sapere qual è il pezzo che vi piace di più naturalmente iscrivetevi al canale e mettete un like un bacione ciao